Dopo le nomine dei capi dipartimento regionali, esclusione di quello dell'ambiente, adesso gli occhi sono tutti puntati sulle attese nomine dei direttori delle ASL. Alle accuse dell'opposizione di una giunta marsilio troppo lenta, risponde il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Guerino Testa. Sono polemiche sterili da parte di un'opposizione che è consapevole, che viene da cinque anni in cui ha fatto veramente poco e nulla, l'uso di abruzzesi e probabilmente questi primi mesi di giunta marsilio hanno dimostrato che in pochi mesi si può fare di più, in pochi mesi si può essere molto più concreti rispetto al passato. Molti dei direttori dei dipartimenti regionali nominati dalla giunta sono però delle riconferme o delle promozioni per uomini che erano stati scelti dal governo guidato da Luciano D'Alfonso. Io ritengo che bisogna mettere al posto giusto le persone che hanno esperienza persone che hanno dimostrato di saper lavorare, persone che possono essere competitive e che possono essere dinamiche per dare concretezza al programma di governo. Sono arrivati curricula, sono stati fatti dei confronti, quindi io ritengo che oggi bisogna solamente lavorare. Io non mi iscrivo tra quelli che vogliono fare polemiche, voglio che tra cinque anni questa giunta si ripresenti di fronte al corpo degli elettori e torni a destra ancora una volta maggioranza. Dopo che la Lega, primo partito all'interno della maggioranza, aveva alzato la voce e quasi causato una crisi in regione, adesso pare che pace è fatta. E anche Testa sottolinea la coesione in seno al governo abruzzese. Prima c'era un uomo solo al comando negli ultimi cinque anni dove nessuno poteva parlare. Invece qui in maniera democratica abbiamo deciso che ogni tre mesi, ogni sei mesi, si farà una verifica perché oggi anche la politica è sempre in divenire, cambiano le cose, succedono le cose e quindi è giusto verificare in maniera costante, trimestralmente e semestralmente, le cose fatte in negativo, le cose fatte in positivo, come sanare eventuali errori e cercare di essere sempre, come si vuol dire, sul pezzo. Forse un'unica pecca che posso rilevare è che noi abbiamo dato poco spazio alla comunicazione, sui giornali, sui social e anche sui territori delle tante cose fatte invece da parte di questa giunta Marsilio che sarà meno sfarzosa ma sarà molto più concreta rispetto al passato.